Chimera baby E' bello a tutti, mi sono andrei che l'anno insieme siamo qui finalmente ritornati con questa visione fantastica del season chimera Che spero che sia uno dei miglior season che abbia mai provato anche se credo che Non so quello è il mio preferito sinceramente Quale cazzo è il mio preferito? Non lo so ragazzi, bella domanda, ci devo pensare a quello è il mio preferito tra tutti i season Oggi ragazzi siamo qui perchè vi devo annunciare una cosa E visto che è uscito un nuovo season sapete benissimo che io ci tengo ad arrivare a Diamante Anche questo season Quindi vi porterò tutti i video delle mie classificate Così la gente non mi caga il cazzo scrivendo amicariato così vede che io gioco praticamente da solo Così non mi caga la minchia E niente ragazzi appunto adesso ci vuole un attimo iniziare a giocare e ripigliarci un attimo la mano Adesso io sul season pass dovrei ricevere già subito Lion e Finca Detta anche Fika E quindi direi di andare a mettere subito gli accessori e tutto E questo episodio lo prendiamo come episodio diciamo revisione del season E dal prossimo episodio in poi eh anche Outbreak Raga mannaccia un cazzo quante cus che ci abbiamo ca Quanto è bello il menu Minchia quante cazzo di cose l'ho modificato Allora raga aspettate Allora ho un bordello di cose da andare a vedere Numero 1 Minchia Ok ah li hanno modificati in modo Oh cazzo quanto sono fighi così però Allora mamma mia raga Vi giuro che sto per sborrare Ve lo assicuro Ma vaffanculo dammi sto vector Andiamo subito ad accessoriare in modo come gio Come vai tutti gli accessori? Va bene Allora raga Io non l'ho provato Quindi gli accessori che sto per mettere Sono in base a quel cazzo che non so Nel senso che Non so com'è l'arma Quindi non so se è precisa se no Sembrerebbe abbastanza precisa Quindi per ora ci vado con l'inclinato Quindi ragazzi non mi cagate il cazzo perché non lo so Minino laser Boh no Non attaccante Non mi piace molto tranne per Ash Ci mettiamo Il nostro acciaio per ora Minchia che cazzo ho visto Io raga Questa è una delle mimetiche che voglio Come anche quella rossa Questa mi fa cagare Bene ragazzi Ciondoli dovrei avere quello diamante Eccolo qua Ma no raga Ma no come è figo il season white noise Ma cazzo è uno dei migliori Ma vaffanculo me lo metto subito Bene ragazzi Direi di tenelo così Se la gente evitasse di rompermi il cazzo con le notifiche Grazie E direi di andare con le mine E direi di tenerlo così La pistola Poi ci guarderò E ok E la io ne ho fatto Ora Finca E vabbè raga ma Cioè state scherzando Cioè dai su Non pigliamoci per il culo Ah Raga come ho detto Per ora mi ci butto sull'acog Ma è l'acog Allora già l'acog degli spezzans Vi dico che a me mi fa cagare Però per ora lo tengo così Poi quando vedrò in partita come modificare le varie classi Eeeh Ragazzi Non conosco ancora un cazzo Praticamente Questi operatori Non ho potuti provarli Perché ovviamente io non gioco nel test tecnico Per cui Non lo so E vedrò La pistola si mi mette La PMM Eeeh Perfetto Già personalizzato loro due Sono già pronti per utilizzarlo Ora C'è una diamante L'abbiamo visto Hanno Voglio un attimo a vedere Se hanno per caso modificato il metodo del negozio No Fa sempre cagare Sempre l'edito a caricare Perfetto Ottimo No però mi è sembrato un po' più veloce del solito Lo ammetto Ah è uscito il set Pro League De De loro madre Che cazzo 31 Cosa sono? 31 notifiche? Che cazzo vuol dire? Che sono le notifiche? No No ma io ho figata Questa è una cosa interessante Per esempio Segna come già letto Segna 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 Guarda qua Quante cose che abbiamo passato Mamma mia ragazzi Ma quanto Quanto sto tornando indietro a vedere quelle cose Vabbè sono usciti nuovi contenuti Vabbè No Vabbò Lo sapevo già Lo sapevo già Sapevo già Pacchetti Outbreak Lo sapevo già Perfetto ragazzi Mi sono cavato tutte le notifiche a posto Interessante il fatto delle notifiche Queste cose le hanno sempre lasciate invariato Ah Ah ho i quattro pacchetti di Outbreak Regà Scusatemi Iniziamo Vaffanculo Iniziamo subito Pregando qualcosa di buono Blu Regà io voglio trovare la mimetica Vabbò Ciondolo Vabbò Dai la mimetica Per favore Urlo Urlo Veramente Urlo Marò Bene Ying Ci poteva essere di meglio Ma va bene Regà Mi sta piacendo un botto Stacco Mi sto veramente eccitando Da far schifo Miseria santa Regà Io spero in una leggendaria Almeno per sperare di poterla trovare Quella cazzo di porca Troia di mimetica Ma non lo troverò mai Regà Non so neanche quanto costano I pacchetti Outbreak Ok un'altra viola Ok Decomantaminazione Per il Capcan E per la cosa Direi di andare a mettere Prima che mi scordo Su chi cazzo era Allora Cara mia Ying Visto che tanto Non avevi un cazzo di nulla Dove cazzo ho cliccato Uniformi Visto che tanto L'avevo messo Te Perché ti sto a ciofeca E no dai scherzo E andiamo dal nostro Caro amatissimo Capcan Che Ah è vero L'hanno anche Modificato Con le palline Aspetta Aspetta State buoni Ah ma si Che cazzo me la frega Ma che tanto C'ho la Nightless Eeeh Bene ragazzi Ora una cosa Che volevo vedere Che io non so E' Sti cazzo di pacchetti Alpha Quanto costano Quanto costano 12.420 Aspetta Cosa 12.420 Dimmi che sto sbagliando I miei calcoli matematici Dimmi per l'amor Del cielo Che per una volta Nella mia vita Io abbia Sbagliato Va bene Va bene ragazzi Eeeh Cioè Io dovrei spendere 100 euro Per dei pacchetti Sono tentato Però eh Però dove cazzo C'è 100 euro In realtà ce l'avrei Però non Me li posso ancora Di tirare Per cui Ma perché Solo 27 giorni Perché mi dovete Far bestemmiare Ubisoft del cazzo Perché 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 Ditemi il perché Vabbè Raga L'ho già visto Sì dai L'ho già visto Eeeh Vabbè Non si può anche Rivedere Ah Io mi sparerò subito Pandemia Bah A buco A buco Mamma Il ciondolo Di quanto sono figli No Io voglio un ciondolo Quello Quello del coso gigante No Raga No Per forza Raga Tenetevi forte Perché qua partono Proprio Partirà un grande Season Ragazzi Veramente Niente ragazzi Non saprei che altro Fare Io direi Che sia tutto Mi raccomando Accettate un like Un commento Iscrivete al canale Tra poco Vedete un sacco di video Ragazzi Inizierò a rigiocare Rainbow di a buco L'unico problema È che i vecchi video Perché voi non sapete Che io sono avanti Di 50 video E verranno rilasciati Un po' alla volta Perché ovviamente Adesso che c'è questo season Ho la priorità In questo season Però piano piano Ragazzi Eeeh Ce la farò Spero Quindi ragazzi Mi raccomando Lasciatelo con commenti Iscrivete al canale Se questo è fatto Auguri per questo Nuovo season Mi raccomando Inizierò anche a giocare Qualche volta con voi Scusate Vero Scusate Stavo guardando Puttanella Gorl Qua Eeeh Io ho pensato Ho pensato male Dove cazzo è Ashelit Eeeh Eeeh Regà Come funziona Ashelit Ah E' già Elite No Sì No No Regà Aiuto Help Please Non capisco Notifica Aiuto Perfetto Andrò a vedere Come fare Sono un coglione Quindi ragazzi Mi raccomando Lasciatelo in commento Ascrivetevi al canale Se avete fatto Un giro da domani Con un prossimo video Bella ragazzi